Il news è presentato da Immobiliare Azzurra. È in programma domani sera alle 21 nella sede di Viamura-Sangallo l'assemblea degli iscritti alla tua Fano. Durante l'incontro sarà nominata la nuova segreteria e discussi i quattro punti sui quali sarà incentrato d'ora in avanti il dibattito interno alla lista civica, e cioè alleanza, coerenza, autonomia e apertura. Fano celebra oggi il 69esimo anniversario dalla liberazione del nazifascismo. Il pomeriggio alle 18 è previsto il ritrovo dei cittadini davanti alla residenza municipale. Alle 18.30 il corteo raggiungerà il monumento alla Resistenza davanti alla Rocca Malatestiana, dove sarà deposta una corona d'alloro. Prevista una tappa al monumento ai caduti di Viale Buozzi e una visita alla lapide per le truppe polacche davanti al bastione Nuti. Raffaella Manieri è da ieri una giocatrice del Bayern Monaco. Nata a Santa Maria dell'Arzilla, frazione di Pesaro, classe 86, dal 2004, gioca in Serie A. Nelle ultime stagioni nel Sassari. La calciatrice pesarese, difensore, approda nella Bundesliga per la sua prima esperienza e lo fa giocando in una delle società più prestigiosi al mondo.